22 marzo 2018 Milano il capitano Elisa Queirolo, 27 anni LAPRESS e non arriva il regalo per Fabio Conti, 46 anni oggi Nei quarti dell'Europa Cup, il sette rosa cede all'Olanda, non abbiamo giocato male, ma stavolta mancata la precisione al tiro, commenta il Citi Dopo l'8 a 6 con cui la squadra di Avenga ci relega alla finalina per il 5 posto A Pontevedra, in Spagna, 30 km da Vigo, Galizia, la protagonista la mancina Van de Kreetz e 17 anni, 4 gol In una classica della pallanuoto femminile, spesso con esiti rocamboleschi, le azzurre si ritrovano avanti solo in chiusura del primo tempo sul 2 a 1 con Avegno Poi sprecano troppo mentre le rivali fanno valere la maggiore prestanza fisica Amet garasi sul 4 a 2 per le olandesi, Italia con un misero 2 diciottesimi al tiro, che in inferiorità numerica affiancano sistematicamente due giocatrici al portiere Ville MSZ La nostra zona M si propone soprattutto di pungere in controfuga, ma le rivali sono attente e, anche se spesso costrette a manovrare al limite dei 30, conservano la lucidità necessaria nel finale Bianconi sigla il meno 1 prima dell'ultimo intervallo, 5 a 4, quindi nel botta e risposta conclusivo il sigillo di Van der Sloot, Stella dell'Orizzonte Catania, a 39, dalla Sirena Complimenti a loro, ci ritroveremo agli europei di Barcellona per prenderci la rivincita, dice Conti E lei formula, ogni squadra pu iscrivere al torneo 15 giocatrici, ma in 13 vanno a referto, cosa anche nel torneo maschile, il settebello sardi scena dal 5 all'8 aprile in Croazia Oggi, il C.T. Azzurro ha lasciato in tribuna Dario e Cocchiere Alla vincitrice andranno 20.000 euro Tutte le partite sono visibili in streaming sul sito della LEN www.len.u Ollanda Italia 8 a 6, 1 a 2, 3 a 0, 1 a 2, 3 a 2, Olanda, Ville MSZ, Vorweldt, D, Gene, Van der Sloot 2, 1 RIG, Van de Kratz 4, Tembroek, Nieuys, Chevenich, Van der Graaf, Kulaz, Klasen 1 RIG, Sleeking 1, Coenders All, Avenga, Italia, Gorlero, C, Tabani, Garibotti 2, 1 RIG, Gragnolati 1, Coirolo 1, R, Aiello, Picozzi, Bianconi 1, Emmolo, Palmieri 1, Cotti, Avegno, Lavi, All Arbitri Ortega, Spa, Ebudramis, Gre, Note, Sap, Num, Olanda 5, 2 gol, Italia 9, 3, Am, Avenga Punto, 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 Punto Grazie a tutti.